Chi ha potete chiedere? Lei è lui! No, lui è lui! C'è due pistole nostre! Due, mica una, due! Adette 65 erano per il vetturo d'affoglio! Ma uno solo fate come cazzo per fare! Non servono manche cose! Portate per lui! Perché devi regare la corda dalla cappatoia, no? Lo leghi come le pare! Poi più leghi bene! E più c'è il tempo pannate! E' vero che serve! Vedi sola proprio? Sola sola! E come fa questa carrozzina? C'è un'elettronica! Ha una voglia di vita a questa signora Pazzesco! Ma sai che come è stata da sola? Che fa? Vedi da sola! C'è una carrozzetta elettrica che è stata! C'è la perché è il suo! Ah è roba sua! Gli ha tirato pari tutto! Gli ha fatto dei 130-140 mila euro liquidi!